Io andrei qua a boi e alzi Io i codici ce l'ho Io i codici ce l'ho Se volete andare entramente ditemelo Andiamo al bunker Guarda al bunker Mal che vada Mi metto sulle montagne e c'è Kino mal che vada Vado a prendere l'elicottero su da Airbots Io Se ce la faccio Aspettiamola in casa allora Intanto vediamo chi scende, quanti scendono Ma Fri... Frippain for who Do you speak Italian? Chi cazzo sei? Penso che sia Non sia italiano Frippain Sicuramente è inglese Parla a te inglese, avanti Ho visto che parli parli Parla inglese, io lo so In questo momento sono un po' in condizioni pessime Non posso parlarlo bene Eh un po' che non lo parlo Passo io t'erro qua su guarda Eh io vado dentro e vado ad aprire Sperando che... Eh stanno già arrivando vedi Eccolo Già è sceso uno dentro Stanno sparando Io t'erro qua su Missile in arrivo grazie Grazie il missile Bunker Cazzo ha mano ferito dentro il bunker Questo non dire che bunker Non è Comunque Comunque Si sono morto Ma io sto osservando Open out Così il caso Attento che non ti arrivano dietro qualcuno però Sanno che stanno i cerchini sopra La montagna quindi Sto arrivando di nuovo Sto arrivando di nuovo Sto arrivando di nuovo anche altra gente davanti a me L'ho Craccato uno Un volo Cazzo Non riesco a prenderlo Enemy dropping into the AO Sta scendendo uno sul lato Ecco Dovresti vederlo adesso che scende sopra L'ho visto Ma dentro già c'è gente Mi hanno mandato il bombardamento Dentro il bombardamento di precisione Eh sì Te lo stanno regalando a te Se qualcuno entra la Non uscirà Non uscirà facilmente però E' vero se si fa un bambino di roba E' vero 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 Beppe 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 Te l'hanno uno a vostra destra Beppe C'è qualcuno sotto Vero? Va la che ci sono chiudere una mano No bravo T'ho visto Beppe Bravo Ah Spero che ci avverta E' vero E' qualcuno già dentro Vero? Dentro il bunker Adesso entro anche io dentro il bunker Basta Sono del cazzo Sto aspettando Sto aspettando l'altro Perché sicuramente c'è qualcuno dentro Eh aspettate anche me Guardate anche me Aspettate Stop stop Eh no Pallo con lì Con trenna Prom Stozzo Eh sta andando avanti Eh sta andando avanti E' un 3 eh Vedi che merda Ah non lascia la zia eh Sì lo so Ce l'ho anch'io ma Da qua non faccio poco Aspetta che trovo Ah Ah Ancora vivo cazzo Ancora vivo eh You are punched up Tento lì che sta Sta sul lato tuo A terra Dietro da dietro da dietro da dietro da sopra! peccato? ma dai! da sopra ci tiravano, che cazzo? dicevo io, da dove erano questi colpi? so se c'è qualcun altro dentro eh dentro c'è un altro sicuro Beppe ma quello che è intorno non l'hai visto? dentro c'era solo lui era ma questa arma io voglio sta arrivando 1 qua 2,2,2 eh, cassetto di protezione oh, il pacchetto di protezione l'avevo aperto, cazzo è rimasto lì bombardamento, che dite? speriamo un attimo no, mi sa che ci sono entrati qui dove sto io non c'è nessuno ho entro il bunker ma tu sei fuori, sei uscito già noi c'è ancora su ha chiuso la porta, ci sono due su e occhio tu dai da noi? si non c'ho abbracciarazzi, ho finito alle munizioni Beppe proviamo ad andare da mano se stai lì c'è un altro ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto ti rinominato Beppe ti rinominato Beppe uno è andato è venuto giù l'altro non lo so se è sceso sta arrivando di nuovo è a terra potete entrare c'è qualcun altro? eh sì, sento i passi è dentro, è su, è su, è su l'ho buttato giù io non è uno solo ne fanno due adesso ci penso io adesso Beppe deve eliminare dentro la porta non mentre arriviamo eliminare direttamente dentro la porta perché se mi puoi arrivare fuori è un po' difficile guarda, erano due che sono entrati in fretta, tutti e due c'è qualcuno fuori? bastardo ci ha ammazzato c'è due ci ha buttato giù c'è un altro che scende Beppe, c'è un altro che scende qua eh, sparagli si, a che non fanno tutto io anche in volo? che è una sei tu che tiri eh no? dimagnientato c'è qualcuno che sta scettinando la destra ma stanno sotto io sto entrando e penso che forse è meglio che andiamo via ma qua continueranno a scendere che ne dite? andiamo via andiamo via da qua andiamo su buoni al sud magari c'è le casse sotto ancora non le hanno prese non ci posso credere tu sei sopra lì? sta arrivando qualcuno? dov'è? non vedo mica io no ecco io guardate l'amico in arrivo che cazzo è? è qua vicino a noi eh? eh sicuramente attenzione che non ce l'avevo sopra la montagna non c'è manco uno a vini merda è qua su è qua su eh attenzione in materia moving beh per dire quando sono io devo andare un attimo sulle case qua per vedere se c'è qualcosa dentro sembrerebbe che questo è un cadavere ma non so chi li ha sparato a terra chi è che ha buttato giù il pallone? ma che bastardo ha buttato giù il pallone? nostro? guarda quando fanno queste cose non mi fa sul cazzo perché hanno fatto i palloni che si abbattono vuoi sapere una volta che hai depositato va a fanculo bastano eh fate questo nuovo aggiornamento del coso fa cagare arco dici ora che mi da fastidio nella verso buona yard è una brutta cross out tra roba e fare in fretta penso che buona yard sud non è andato non è andato eh hanno fatto il miglior non è andato anche io a sud sull'altro bunker ma è chiuso non è andato manco aperto qua è tutto chiuso cazzo stai dal mezzo stai dal mezzo nemico eh io sono lontano però io beh per provare ad anteno ma no anche se stai dal mezzo cazzo stai dal mezzo se c'è qualcuno ci tira perché l'ultimo senti del termacino fatene perché sicuramente me crackano sicuramente a terra a terra a terra ragazzi però ne so dentro il bunker manca poco mancano pochi secondi 10 secondi cazzo ultima casa mancava secondi ciao 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 ciao